Lisa, cosa ci hai portato oggi? Parliamo di formaggi freschi, perché non parliamo mai di formaggi freschi nelle degustazioni e questa volta l'abbinamento lo faremo con dei prodotti interessantissimi. Intanto diciamo che l'azienda che ci ha fornito questi formaggi è Latte Marini, un'azienda della Tuscia Viterbete, in particolare da Soriano nel Cimino, quindi nel cuore della Tuscia, un posto dal punto di vista naturalistico molto interessante. L'azienda è un caseificio aziendale, quindi ha sia l'allevamento e il caseificio annesso, quindi produce il latte con cui poi otterrà questi prodotti e la cosa interessante è che oltre a produrre il latte per i propri prodotti, produce anche buona parte degli alimenti da destinare alle bacche da latte. In particolare c'è anche una parte di pascolo, 25 mila metri, su cui le bacche tranquillamente possono alimentarsi e tutto quello che è alimentazione delle bacche, che è un cereale dato alle bacche, qualsiasi cosa che si mangiano si ritrova poi nel formaggio. Quindi sono sì formaggi freschi, ma hanno un sapore proprio, hanno una cosa molto interessante, anche la parte di grasso, un pochino sopra il prodotto commerciale. Ho portato una mozzarella, fior di latte, una stracciatella, quindi sono essenzialmente due formaggi a pasta filata e anche uno stranchino. Quindi diciamo tre prodotti parzialmente simili, ma tra loro molto diversi. Che cosa hai pensato invece di abbinarli? Per questi formaggi freschi servono comunque delle buone stabilità, una buona freschezza, vini giovani, appunto perché i formaggi sono molto giovani e ci serve qualcosa che non sia particolarmente profumato, perché altrimenti andremo a coprire tutto ciò che è il sentore di latte, di acido lattico che si portano dietro questi prodotti. Quindi ho puntato su un paio di bollicine, in particolare Extra Brut dell'azienda Ruggeri, quindi un metodo Charmant, che ha un residuo zuccherino appunto molto limitato e che non va a coprire la dolcezza di questi formaggi. Dell'azienda Tenuta Ronci di Nevi ho portato uno Chardonnay, annata 2018. È un vino che comunque si presenta molto fresco, ha delle interessanti noti legate allo Chardonnay, ma punta molto sulla freschezza e sulla mineralità. È la stracciatella che comunque non è semplice come abbinamento, proprio perché è il più fresco tra i prodotti. Abbiamo selezionato una palanchina del Sanno di Teo di San Gregorio, una piuttosto famosa sul mercato del vino. Quindi stiamo cercando anche un po' di scimiotare l'abbinamento con i prodotti campani, però insomma vale la pena questa stracciatella. E poi infine, per giocare sempre un po' con le bollicine, qui abbiamo una Franciacota 2CG Satin della azienda Antica Prata. Quindi rispetto alla precedente bollicina, un po' più di evoluzione, ma comunque non sono mai esplosioni di profondi che possono sovrastare i formaggi. Quindi questo è quello che abbiamo oggi ad assaggiare. Sì, lo assaggiamo. Ok. Sì, lo assaggiamo.